Non dobbiamo per forza ucciderla, è nostra amica, ha tradito l'organizzazione, e allora non possiamo darle una seconda opportunità, ha tradito l'organizzazione, dobbiamo ucciderla, sono le regole, e allora le regole sono fatte per essere in grande e lo sai anche tu, senti, l'ha ordinato il capo, vuoi continuare a fare il suo camionino per tutta la vita? Spostati, fermati, attenta l'accento, fermatevi, dovete ragionare, dai, fermatevi, basta con questa follia, basta ragazzi, sono serio, siamo amici, perché dobbiamo continuare con questa stupiraggine? No, no, fermati, perché l'hai fatto? Ti avevo chiesto di non ucciderla, è la nostra amica! Morirai per questo! Perchè siamo andati a questo? Non dobbiamo dire così! Già!